Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. La storia di oggi è di grande ispirazione, anche se per certi aspetti è tragica. È la storia di un grande inventore, ma altrettanto sfortunato, perché ha lottato fino alla fine, ma alla fine non ha raggiunto la ricchezza e il successo che meritava, anche se il suo nome è rimasto per sempre incastonato nel firmamento dei più celebri inventori di tutti i tempi. Il suo nome è Charles Goodyear, 1800-1860. Il suo nome, soprattutto il suo cognome, sicuramente vi dice qualcosa. Infatti è stato colui che ha inventato un metodo di lavorazione della gomma, la vulcanizzazione, che ha reso possibile lo sviluppo di tantissime tecnologie quotidiane, come gli pneumatici, le scarpe da tennis. E come sarebbe il trasporto oggi senza questa invenzione? Questa invenzione è stata fatta proprio da Charles Goodyear. Trago la sua storia da un bel articolo, molto approfondito, di Simone Cosimelli, pubblicato sul mensile Focus Storia. Mensile che ovviamente vi consiglio, perché è ricchissimo di informazioni, di approfondimenti e di finestre sul nostro passato, che è ricco di storie che ci possono dare tantissimo, anche oggi, come quella di Charles Goodyear. Vi leggo i passaggi che più mi hanno colpito. Nato nel 1800 a New Haven, in Connecticut, Charles Goodyear era il primo di sei figli. All'età di 25 anni, dopo aver sposato Clarissa Beecher, entrò in affari con il padre, che allora gestiva un negozio di ferramenta. Si occupava di bottoni e vendeva attrezzi agricoli. Con la moglie poi decise di trasferirsi a Filadelfia, nel tentativo di ampliare il commercio di famiglia. Ecco, già potete sentire la voglia di continuare, la voglia di evolvere, la voglia di crescere, di avanzare in modo autonomo. Nel 1830 la società però fallì e lo spettro della povertà bussò alla porta. Goodyear fu costretto a barcamenarsi, tirando avanti tra debiti e delusioni. E questa sarà la caratteristica, l'impronta karmica, possiamo dire così, della vita di Charles Goodyear. Questo è un altro aspetto molto importante, perché nonostante tutto questo, lui ha continuato a inseguire non soltanto il suo sogno, ma inseguire la creazione, la realizzazione del suo sogno, senza minimamente, e questo è l'aspetto più eroico di Charles Goodyear, senza minimamente preoccuparsi dell'ingiustizia che sempre di più lo avrebbe accompagnato. Nel 1834, a New York, propose alla Roxbury Rubber Company, la prima azienda di gomma del paese, una innovativa valvola di gonfiaggio per salvagenti. Si sentì rispondere che per quel materiale presto non ci sarebbe stato più spazio negli Stati Uniti e che di fronte alla contrazione del mercato, ulteriori investimenti non erano all'ordine del giorno. Ma Goodyear non volle arrendersi e decise che lui stesso avrebbe risollevato le sorti della gomma, migliorandone le caratteristiche. Tornato a Filadelfia, tutto si fece però più complicato e a causa dei debiti finì in prigione. Anziché arrendersi, chiese alla moglie di portargli in cella il minimo indispensabile, una soluzione, pensava, doveva esistere, e lui l'avrebbe trovata. E questo non è che l'inizio. Lui continua, continua nella ricerca della migliore soluzione che lo avrebbe portato appunto alla scoperta della vulcanizzazione della gomma. Ma per arrivarci sarebbero dovuti passare almeno altri dieci anni. Dieci anni in cui sarebbe stato ancora perseguitato sempre di più dai debiti, dai creditori, dai fallimenti, dalla mancanza di investitori. Arrivò perfino a disfarsi dei suoi mobili, a vendere i suoi mobili e a vivere con la famiglia in catapecchie. Ma alla fine ce la fece. Anche se ce la fece però, la sua sfortuna non sarebbe cambiata. Infatti il successo non lo avrebbe premiato con quello che gli meritava e anche con il denaro che avrebbe coperto, ripagato tutte le fatiche passate. Infatti aveva inviato, prima del 1844, l'anno in cui ufficialmente ottiene il brevetto della sua invenzione, aveva inviato alcuni campioni nel Regno Unito e di questi campioni era entrato in possesso Thomas Hancock, un ingegnere e un grande imprenditore dell'industria della gomma che, pensate, bruciando sul tempo Charles Goodyear, nel 1843, un anno prima, aveva registrato un brevetto per lo stesso processo, chiamandolo vulcanizzazione. Goodyear lo accusò pubblicamente di aver sfruttato la sua idea in modo illecito e da qui seguì tutta una lunga trafila burocratica e processuale che comunque non avrebbe premiato Goodyear. Tanto che, pensate, quando l'imperatore francese Napoleone III gli volle assegnare la legion d'onore per premiarlo, Charles Goodyear si trovava in carcere per insolvenza e morì nel 1860 con 200.000 dollari di debiti. Per fortuna ha lasciato una grande eredità. Infatti, dopo tante difficoltà, la famiglia poteva vivere serenamente con i proventi del suo lavoro e soprattutto un figlio, Charles Goodyear Jr., mise a frutto gli studi paterni e riuscì a produrre scarpe da ginnastica. A riscattare, il suo nome fu un uomo che con lui non aveva avuto rapporti, Frank Saberling. Nel 1898 fondò in Ohio un'azienda di prodotti di gomma specializzata in pneumatici, che oggi è la più nota in assoluto, cioè la Goodyear, e proprio in onore di Charles Goodyear chiamò la sua azienda Goodyear. Ecco che allora, così si conclude l'articolo, a 220 anni dalla sua nascita, il nome Goodyear, è famoso in tutto il mondo. Ma vorrei aggiungere una cosa in più, cioè il grande idealismo di Charles Goodyear. Infatti Goodyear credeva che il fine ultimo degli inventori fosse, prima del prestigio personale, quello di assicurare i più grandi benefici all'umanità, benefici per tutti. Per questo, nonostante le difficoltà, non si abbandonò mai allo scoramento. Tanto che scrisse queste parole nel 1853, riflettendo sul passato per quanto riguarda questi rami dell'industria, lo scrittore non è disposto a lamentarsi e dire che lui ha piantato e altri hanno raccolto i frutti. I vantaggi di una carriera nella vita non dovrebbero essere stimati esclusivamente in base ai dollari e ai centesimi, come troppo spesso si fa. Un uomo ha motivo di rammaricarsi solo quando semina e nessuno raccoglie. Un gigante. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti.